Ciao! Ciao! Allora guardate ho preso un mazzo di carte gigante e l'ho fatto tagliare in due parti Ok? Allora guarda ora ti faccio vedere tutte quante carte diverse l'un dall'altra da poker Ok? Te le faccio scegliere una d'orso in alto così Allora te le apro per bene, tu me ne dovrai indicare una, una che vuoi, ok? Questa! Questa qui? Yes! Questa qua, allora tiralo fuori, falla vedere pure in camera e ora veniamo a te Ok? Allora l'altra metà del mazzo Vediamo di sceglierne una anche tu, totalmente a caso, quella che vuoi Io te le apro bene tutte quante così mi dici, mi rendi di una Questa qui? Yes! Ok! Vieni! Non la farò vedere te in camera Allora, non ci crederete ma l'esperimento è già riuscito Sapete perché? Perché guardate Il dorso combacia esattamente la metà dell'altra carta Non siete molto convinte? No! E va bene, allora forse vediamo così Vi faccio vedere che anche le facce sono uguali Voi avete preso tutte e due la metà dell'otto di quadri Sì! Ci vediamo! Sì I